questa sera primo febbraio ore 21 e 30 farò una live insieme a tutti quanti voi per decidere un incontro un raduno molti me l'hanno chiesto max 75 più e più volte mi ha detto perché non organizziamo insieme un raduno ascolterò le vostre idee le vostre opinioni decideremo insieme una data per fare il nostro raduno una cosa che potrebbe piacervi faremo un bel video insieme ok 21 e 30 venerdì primo febbraio ciao